Esce dall'albergo e è armato di bastone, affronta i ladri che stavano rubando due biciclette, poi posta il video su Facebook che in poche ore ha fatto il giro del web, rimpallato di bacheca in bacheca. Protagonista della vicenda, Claudio Dallamora, titolare dell'hotel Carinzia a Jesolo. La notte tra domenica e lunedì stava sbrigando delle pratiche burocratiche in ufficio, quando dal circuito di videosorveglianza ha notato degli strani movimenti in cortile. Non ci ha pensato su due volte, ha preso il bastone e ha affrontato i banditi, due italiani di 20 e 30 anni. La reazione dei due non lo ha fermato, ha continuato a menar fendenti cacciando i ladri. I furti negli alberghi di Jesolo sono drasticamente diminuiti negli ultimi anni, raramente si vedono ancora ladri acrobati che saltano dalle finestre o dai terrazzi per entrare nelle stanze, ma ci sono comunque delle bande che entrano nei parcheggi e rubano all'interno delle auto o le biciclette, rovinando così le vacanze agli ospiti delle strutture. Le forze dell'ordine avvertono che è sempre bene evitare di farsi giustizia da soli, se non proprio in caso limite di difesa personale.